Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Questo è uno dei video che escono tre volte alla settimana, sono un po' più lunghi perché io prendo le notizie della settimana, quelle più brevi. Ve le riporto dentro questi video, sono un po' più lunghi quindi perché vi spiego un pochino più in dettaglio tutto quanto. Quindi mettetevi comodi perché come avrete sicuramente visto dal titolo o dalla copertina di questo video questa sera parliamo di un argomento che vi sta a cuore e che vi sta creando dei problemi in generale. Più che problemi vi sta creando molti dubbi. Quindi partiamo subito col video perché poi non voglio farlo diventare troppo lungo. Allora, tanti di voi si stanno chiedendo cosa succederà appena finisce il reddito di cittadinanza e molte persone che lo finiranno sono per maggior parte composti da nuclei di una sola persona. Quindi stiamo parlando dei single. Oltre a parlare dei single, in questo video parleremo anche di altre categorie di persone. Quindi rimanete collegati fino alla fine. Questi giorni sto ricevendo tantissime domande. Bene elenco due, quelle che mi fate di più spesso. Ecco, cosa succederà ai single con il nuovo reddito di cittadinanza? E poi ancora, prenderanno l'assegno di inclusione o sono esclusi? Fermo restando che comunque la valutazione finale spetterà o ai servizi sociali o all'Inps o al collocamento o a ogni altro soggetto abilitato dallo Stato. Vediamo intanto che cosa dice il decreto. Poi dopo vi spiego un'altra questione. Partiamo subito dall'articolo 4,5. Che ci dice così? Apro una parentesi. Serve per introdurre tutto il video. Quindi ascoltate cosa dice questa parte qua, poi capirete anche il resto. Questa comma di questo articolo ci dice che i servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale Non so spiegarvi che cos'è la valutazione multidimensionale, se no non ne usciamo più fuori Dei bisogni del nucleo familiare finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione Durante questa valutazione i componenti del nucleo familiare di età compresa tra i 18 e 59 anni Attivabili al lavoro vengono poi avviati ai centri per l'impiego Per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato E va bene, e questa parte qua praticamente tra un po' la conosciamo a memoria Perché l'abbiamo letta da tutte le parti Però noi non ci fermiamo qua e andiamo avanti per capire Articolo 6,4 Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative Di lavoro, nonché alle misure di politica attiva nel progetto di inclusione sociale e lavorativa I componenti del nucleo familiare Maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale Non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi E che non abbiano carichi di cura E quindi, come facciamo a capire noi single, non single, disabilità, non disabilità? Ecco che arriva la risposta Articolo 6,5 Sono esclusi dagli obblighi I beneficiari dell'assegno di inclusione Titolari di pensione diretta O comunque di età pari o superiore a 60 anni Poi abbiamo i componenti con disabilità Ai sensi della legge 12 marzo 99 La numero 68 Fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato Poi abbiamo i componenti affetti da patologie oncologiche E infine i componenti con carichi di cura Valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età O di 3 o più figli minori di età Ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza In base al decreto 159 del 5 dicembre 2013 Quindi adesso che ci siamo fatti un carico di informazioni Su quello che dice il decreto e gli articoli Vediamo che cosa succede Il requisito ISEE in primis Possiamo a questo punto iniziare a cercare di capire Chi saranno le persone interessate Partire dal requisito di base e l'ISEE L'assegno di inclusione infatti spetterà a patto Che il nucleo richiedente presenti un indicatore non superiore a 9.360 euro Stesso previsto da RLC Inoltre ci saranno gli altri paletti Più quelli del patrimonio mobiliare e immobiliare Quindi la domanda è quali nuclei ne hanno diritto? La differenza tra l'AD e RDC è quella di premiare A questo punto è quella di premiare Ma l'hanno sempre detto Non è una novità di adesso I nuclei che abbiano almeno o un minorenne O un componente con più di 60 anni di età O un disabile Così come indicato dalla legge 12 marzo 99 La numero 68 Che vi ho detto prima Escludendo di conseguenza qualunque altro nucleo Privo al suo interno di un soggetto con queste caratteristiche Ora vediamo gli importi e la durata Anche qui può essere un passaggio in più Per riuscire a farvi capire C'è una differenza a livello di trattamento economico Che viene fatto tra nuclei composti esclusivamente Da soggetti considerati fragili Quindi solo minori Disabili Occhi a più di 60 anni di età E nuclei che invece hanno anche soggetti in stato di buona salute Tra i 18 e i 59 anni I cosiddetti occupabili Quindi facciamo un paio di esempi Così forse magari si capisce meglio Allora Primo esempio Nucleo di due genitori ultra sessantenni e un figlio disabile L'assegno potrà arrivare fino a un massimo di 7.560 euro l'anno Ovvero 630 euro al mese Secondo esempio Genitori ultra sessantenni con un figlio disabile Più più secondo figlio occupabile Attenzione al fatto del secondo figlio occupabile Attenzione Il massimo sarà di 500 euro al mese Quindi 6.000 euro l'anno A condizione però che i membri occupabili Si inseriscano in un percorso regolamentato di ricerca lavoro Poi la durata sarà di 18 mesi rinnovabili Di ulteriori 12 mesi E deve essere considerata anche l'eventuale quota fissa aggiuntiva Di 280 euro al mese Nel caso di abitazione in affitto Quindi riassumendo In teoria Se un nucleo familiare è composto da una sola persona singola Con almeno 60 anni O che abbia una disabilità O che abbia una patologia oncologica O che abbia degli obblighi di cura L'assegno di inclusione dovrebbe spettare Ovviamente questo vale anche se Ovviamente si devono rispettare Gli altri requisiti di cittadinanza Reddito e residenza Poi siccome che me lo stavate chiedendo in tantissimi Ma veramente in tanti Sia il single che non Disabilità Non disabilità Per quanto riguarda la legge Numero 68 del 12 marzo 99 Sulla disabilità e sugli esoneri Vi lascio poi qui sotto Nella scheda del video Il collegamento diretto a un sito del ministero del lavoro Delle politiche sociali Dove è spiegato molto molto bene Vi assicuro che è fatto veramente bene Quella pagina Quel sito internet Vi spiegano tutto quanto Disabilità e esoneri Così ve la potete andare a leggere E vedete se anche voi rientrate in quelle categorie Ovviamente non ne ho parlato in questo video Perché la cosa sarebbe diventata troppo lunga E sarebbe diventato un video lungo Una quaresima E allora per evitare Faccio prima Vi lascio il collegamento Vi dico già che è spiegato veramente molto bene E' comprensibile da tutti quanti Quindi basta che ve lo andate a leggere E capite tutto quanto Bene Con questo è tutto Se avete altri dubbi o domande Prima vi riguardate tutto il video Prima e poi dopo mi fate le domande Perché altrimenti rischiamo che poi Mi fate domande a cui ho già risposto all'interno del video E poi eventualmente se è il caso Aprirò un post qui su YouTube Mi raccomando leggete i post Aprirò un post qui su YouTube Dove appunto magari vi faccio una domanda specifica E voi mi chiedete quello che vi interessa Così io faccio ricerche E poi vi porto le risposte all'interno di un video Quindi mi raccomando Oltre a ascoltarvi tutto il video A vedere se c'è qualcosa che non vi quadra Vi scriverò poi eventualmente anche un post qui su YouTube Bene Con questo è tutto Vi ringrazio per avermi guardato Ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale Di attivare anche la campanellina Così salite sempre aggiornati E poi seguitemi anche su Instagram Molto molto importante Quindi per chi ha già l'applicazione Basta che va su Instagram Clicca lì Entra dentro E mi cerca Per chi non ha l'applicazione La può scaricare Installare Registrarsi tranquillamente E poi cercarmi anche lì Quindi mi cercate e cliccate sul tasto segui Se no se non cliccate sul tasto segui Non funziona il collegamento Con questo è tutto Ci vediamo in un prossimo aggiornamento Sempre solo sull'unico canale originale di YouTube Il mio Quello che vi fa i conti in tasca A presto Ciao 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 Ciao